Andiamo adesso a Sassari, vi parliamo di un campo di basket che si trova nel quartiere di Sant'Orsola che è chiuso da un anno. Ci racconta tutto nel servizio Valeria Ganato. Le retine hanno conosciuto tempi migliori, consumate dal sole e dalla pioggia, non certo dalle pallonate. Intorno erba secca, qualche bottiglia di birra vuota e il silenzio più totale. E non è certo perché sono le 4 di un pomeriggio infuocato di luglio. Il campo da basket di Piazza Bande a Sant'Orsola sta così dal 2018, dal giorno in cui l'amministrazione di allora ha tagliato il nostro inaugurale. In realtà il campo l'anno scorso è entrato in funzione ma scaduta la convenzione con la WISP, al momento non sembra esserci possibilità di riaffidarlo ad associazioni che possano creare attività. Per un anno la WISP è riuscita a gestire in modo ottimale questo campo di basket, questo playground e oggi già da un anno lo ritroviamo sempre nelle stesse condizioni. Noi del comitato, come tutto il quartiere, esprimiamo veramente un rammarico, una lamentela proprio perché è un quartiere di 7.000 abitanti e questo è l'unico spazio sportivo di cui dispone. Ma a Sant'Orsola non è l'unico campetto, ne esiste un altro che fortunatamente funziona bene. Un altro campo di pallacanestro che invece è aperto e dunque i ragazzi possono andare tranquillamente. Esprimiamo veramente una forte lamentela.